Rolex Oyster Perpetual 31 mm, la prestigiosa tradizione dell'orologeria. L'Oyster Perpetual 31 mm rappresenta un'opera d'arte orologera che ha resistito alla prova del tempo. La sua cassa di 31 mm offre un equilibrio perfetto tra dimensioni compatte e leggibilità, rendendolo un modello adatto a qualsiasi occasione. Tra le caratteristiche distintive che contraddistinguono il 31 mm rispetto ad altri modelli dell'Oyster Perpetual, c'è un dettaglio affascinante. La minuteria aperta è continua. Mentre nelle versioni di diametro differente, gli indici sono spesso rappresentati da quadratini o numeri romani, il 31 mm presenta una minuteria che si snoda in modo continuo lungo il perimetro del quadrante. Questo particolare dettaglio aggiunge un tocco di raffinatezza e originalità al design. Il nome, Oyster Perpetual, è sinonimo di eccellenza e prestigio nell'orologeria. Questo nome è una combinazione di due caratteristiche fondamentali dell'orologio. Oyster rappresenta la famosa cassa ermeticamente sigillata, una caratteristica brevettata da Rolex che protegge il movimento interno da fattori esterni come acqua e polvere. Questa tecnologia ha rivoluzionato l'orologeria, rendendo gli orologi Rolex affidabili e resistenti in condizioni estreme. Perpetual fa riferimento al movimento automatico dell'orologio. Il movimento Perpetual, un'innovazione introdotta da Rolex, sfrutta il movimento naturale del polso per generare l'energia necessaria per far funzionare l'orologio. Questo movimento automatico elimina la necessità di caricare manualmente l'orologio, garantendo che continui a funzionare senza interruzioni. Rolex, con il suo impegno per l'eccellenza e la costante ricerca della perfezione, ha creato un orologio che va oltre la semplice misurazione del tempo. È un'opera d'arte che celebra l'ingegno umano. Che tu sia un appassionato di orologi, un collezionista o semplicemente una persona in cerca di un orologio affidabile e di classe, l'Oyster Perpetual 31 mm è la scelta perfetta.